E' per sta filata, è filata la lana, la lana e la bianco, del vestito del santo, che andava sul rogo, e mentre bruciava, urlava e piangeva, e la gente diceva, a me lì che è santo, vestito da bianco. Ma che sono io? Un esperto, ma facciamo un rapino con un deficiente palungue, ce l'ho io al mezzo. Ma che dici, che so, ti l'hai sempre stronzata. Andiamo, 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 andiamo. Ehi, che aveva detto? No, poi lei entra e fa, mani in alto, questa è una rapina, scandito bene, mani in alto questa è una rapina. Dai facciamo un po' Ma come li hanno rubata? Ma no, cioè il lato positivo. E' il lato positivo, ma come si è non rimasta male? Ma come la cartina? Ma io stronzo! Andiamo, andiamo, andiamo a piedi! Aspetti! E per capilava, 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 e per capilava la lana, e per capilava la mia nuova, al vestito del sangue, che andava su un uomo, e mentre bruciava, tu la metti a c'era e la gente diceva anche di che sa che stitola è ben troppi là oh, oh, dove me la sono andate? questo? no, 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 è vostra se prenda quella sua, se prenda quella sua ma pigliatelo e andare fuori, fuori ma avete già fatto un po' di casino, via, via oh, mani in alto, questa è una raffina ma ch'è? ma non c'è l'anina viva? ma ha detto piano, devi più forte poi c'è lui che ha spiegato bene il bambino fuori sì, ma mani in alto, questo non c'è nessuno, non ne usciamo via ma ho spiegato bene, quello è professionista ha visto che e basta con queste mani, è un professionista strigli, mani in alto, questa è una rapina forza, un pezzo di slide one, two, three, three mani in alto, questa è una rapina